Si è conclusa con una spaghettata la giornata, appogliamo insieme la pista ciclopedonale Solignano-Ghiare, ritrovo alle 9 la stazione di Valmozzo, le poi via a togliere abacce, sistemare le transenne in legno rotte e qualche rifiuto come bottiglie, lattine e cartacce, ma molto meno dello scorso anno. Una pista pronta perché vuole fare jogging per le passeggiate delle manne con i figli o con i cani. Questo tratto di circa 8 km, con il recente accordo fra provincia, ferrovia dello Stato, i comuni lungo la Valtaro e in parte della Valceno, dal Collegio fino a Bedogna, diventerà parte integrante del progetto di una ciclovia di una sessantina di chilometri, dalle porte di Parma all'Alta Valtaro, di cui forse anche la tratta ferroviaria dismessa Citerna-Solignano, dopo il sopralluogo tecnico che si avrà nei prossimi giorni con provincia, ferrovie e comuni interessati. C'erano un po' tutte le associazioni e i cittadini dei comuni di Solignano o Valmozzo e Berceto, muniti di guanti, cesoie, scope e tanta buona volontà, un volontariato messo in pratica al servizio della comunità. Soddisfazione per tutti, compreso il vice sindaco di Solignano Cristian Lupi in prima linea parole e con il decespugliatore.